Stasera è vero sì inauguriamo la sede ma fondamentalmente abbiamo voluto celebrare questo momento di unione tra Ampar e Unicons, l'associazione dei consumatori, perché il nostro obiettivo è quello di avvicinarci quanto più possibile alla gente, ai consumatori, a chi ha effettivamente il problema, il conflitto, la controversia e che si senta tutelato e magari dalla propria associazione di consumatori come in questo caso l'Unicons, ma soprattutto che possa trovare una risposta celere, conveniente, comunque satisfattiva delle proprie esigenze prima di adire un tribunale e quindi di imbarcarsi nella lungaggine del processo, costi e quant'altro.